La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Terni ha dato esecuzione su tutto il territorio nazionale e all'estero ad un provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, nei confronti di 42 persone fisiche e di 39 giuridiche per un totale di 12.552.360,53 euro, emesso dal GIP. I reati contestati sono associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale, al riciclaggio ed all'autoriciclaggio, impiego di denaro proveniente da delitto in attività economiche, in debite compensazioni, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Per l'esecuzione al decreto, hanno riferito gli investigatori, sono state eseguite diverse perquisizioni locali, in tutto il territorio nazionale ed estero, nei confronti dei soggetti indagati e sono stati individuati e colpiti da provvedimento di sequestro complessi aziendali, beni e disponibilità finanziarie degli indagati nel territorio di Terni e di altre 14 province, Milano, Torino, Biella, Novara, Verona, Lucca, L'Aquila, Teramo, Viterbo, Roma, Napoli, Potenza, Catania e Sassari. Nonché in Romania. L'attività è stata condotta a seguito di una complessa ricostruzione della posizione fiscale e finanziaria di diversi soggetti economici e persone fisiche, attraverso il monitoraggio dei flussi finanziari che ha consentito di ricostruire la presunta rete associativa criminale. Siamo davvero soddisfatti, forse è l'inchiesta più interessante che abbiamo sviluppato in questi anni. Dicevo all'esordio che eravamo interessati ai patrimoni illeciti, sottratti al fisco e quindi ai servizi per la collettività, grande professionalità. Siamo un ufficio di delle dimensioni, abbiamo interessato 12 province, lavori importanti dell'altra professionalità e soprattutto restituire e stimolare la parte positiva, la gran parte degli investitori ternali che lavorano in concorrenza leale e non sleale. Oggi dimostriamo che si può fare business in maniera sleale perché non pagando alcuni costi, è chiaro che è poi tutto più facile, in danno sempre dalla qualità dell'utenza. Quindi sotto questo aspetto ringraziamo molto l'Unif della Banca d'Italia, Eurojust, la Romania. Ci siamo mossi, nonostante una piccola provincia, in maniera moderna ed efficace. Abbiamo eseguito un'operazione molto complessa di polizia giudiziaria sul delega della procura di Terni, sostanzialmente abbiamo intercettato un'associazione a delinquere con base operativa a Terni che attraverso uno studio di consulenza tributaria generava dei falsi crediti IVA che poi venivano venduti a società terze e che ne beneficiavano per abbattere il loro debito con l'erario. Il giro d'affari? Il giro d'affari è al momento di 15 milioni e mezzo di Euro. Seguiranno ovviamente ulteriori accertamenti anche di natura bancaria e non escluso che si possano individuare ulteriori disponibilità. Qual è il ruolo di Terni nel contesto di questa indagina? Terni è la base operativa perché lo studio commerciale è effettivamente a Roma ma di fatto l'operatività a Terni e a Terni soprattutto risiedono le società che noi chiamiamo cartiere cioè sono società fittizie aperte a prestanome soggetti che in cambio di alcune somme di denaro cedono di fatto la loro identità giuridica bancaria e hanno generato false fatture che quindi hanno generato falsi crediti che poi sono stati tra virgolette venduti con un agio. Ci tengo però anche a precisare che questa attività è importante perché ha una natura interdittiva ha impedito che si portasse il reato fino alle sue conseguenze, ha recuperato gran parte delle somme reali ovvero stiamo andando a sequestrare quello che per equivalente non abbiamo trovato e siamo riusciti ad arrivare anche in Romania dove erano state create due società fittizie verso le quali riversare con false fatture le somme di denaro per poi andarle adrenale e quindi tramite l'autorità giuridica di Terni ed Erogest oggi in Romania hanno operato la polizia rumeno che ha fatto perquisizioni, ha bloccato i conti e ha consentito quindi quest'ultimo passaggio all'estero delle somme di denaro. L'operazione ha preso il via? Da un controllo fiscale due anni fa nei confronti appunto di questo studio di consulenza con un'attività su Terni che ci ha portato a questo studio di consulenza da cui sono apparse come dire contabilità non omogenee, non chiare. E di qui, prego. Perché il sequestro di un'area distributore di carburanti, un deposito? Perché l'associazione a delinquere oltre a beneficiare degli introiti illeciti derivanti da questa vendita di falsi crediti ha generato ovviamente delle somme che hanno sia autoriciclato verso se stessi sia verso terzi affidando che se somme prestano nome consentendo di acquistare in questo caso un deposito di carburanti a Terni e quindi avere le proprie attività di riciclaggio. 14, un po' in tutta Italia, ci sono tanti ovviamente soggetti indagati per i quali poi ovviamente processualmente si verificherà se questo acquisto effettivamente sia stato come dire un incauto acquisto ovvero effettivamente mi danno comunque una responsabilità piena.